versate nel boccale tutto lo zucchero di canna azionate il bimbi 10 secondi aggiungete la farina integrale, la fecola di patate, il caffè, aggiungete il verito proprio spalmabile o altrimenti se non l'avete voglio normale e un pizzico di sale azionate il bimbi a velocità 5 per 20 secondi ecco la pasta come si presenterà io all'impasto ho aggiunto scusate ma me ne ero dimenticato infatti l'ho aggiunto dopo cannella in polvere stendiamo la pasta frolla come potete vedere elasticissima e quindi la stendiamo così pasta frolla senza burro senza uova al caffè sistemate in una teglia foderata da carta forno e spolverizzate la superficie dei vostri biscotti con lo zucchero di canna così infornate a 180 gradi forno precedentemente preriscaldato statico per 15-20 minuti eccoli pronti oggi non vi faccio vedere perché comunque sono proprio bruciata o stionata dal sole però ne assaggio uno e vi faccio sentire solo la consistenza vediamo sono croccantissimi spero che questa video ricetta vi sia piaciuta vi lascio alla prossima un bacio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti